Il servizio di volontariato solidale è una scelta che rende liberi e aperti alle necessità dell'altro, alle esigenze della giustizia, alla difesa della vita, alla salvaguardia del creato, con un'attenzione tenera e speciale per i malati e soprattutto per gli anziani che sono tesoro di saggezza. La cultura della solidarietà e della gratuità qualifica il volontariato e contribuisce concretamente alla costruzione di una società fraterna, al cui centro vi è la persona umana. Nella vostra terra tale cultura attinge abbondantemente dalle robuste radici cristiane, cioè l'amore di Dio e l'amore del prossimo.